Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Nel video odierno, affronteremo la commovente reazione del fratello di Giulia Cecchettin durante le sue esequie. La Basilica di Santa Giustina a Padova era affollata di persone venute a rendere omaggio a Giulia Cecchettin, una giovane vittima di femminicidio. L'uscita del feretro bianco, coperto di rose dello stesso colore, ha suscitato profonda commozione tra i presenti. Le parole del vescovo di Padova, Monsignor Cipolla, e quelle di Gino Cecchettin. Il padre di Giulia, che aveva preparato un discorso scritto, hanno toccato il cuore di tutti. Nonostante il dolore, il padre di Giulia ha trovato la forza di abbracciare e consolare i suoi due figli, dimostrando un coraggio straordinario in un momento così tragico. In particolare, ha abbracciato con forza Elena, la figlia maggiore che si era espressa contro la violenza sulle donne nei giorni della scomparsa della sorella. Il fratello Davide, inizialmente rimasto lontano dalle telecamere fino al giorno delle esequie, si era trattenuto, ma poi non ha potuto trattenere il pianto straziante. La partenza del feretro dalla basilica è stata accompagnata da campanelli e urla della folla. Un gesto simbolico per richiamare l'attenzione sull'emergenza femminicidi in Italia, la storia di Giulia ha avuto un forte impatto mediatico e ha fatto riflettere l'opinione pubblica. E tu, cosa pensi di questo funerale? Ricordati di iscriverti al canale e lasciare un like al video. Grazie.